Ben tornato in campo per Lacani dopo il lungo infortunio, chiaro che ti aspettavi un ritorno diverso. Sì, totalmente diverso. Abbiamo sbagliato tutto, dobbiamo stare più concentrati, più sul pezzo e darci una mezza svegliata, lavorare, lavorare, lavorare in settimana, seguire quello che dice il mister e basta, i risultati arriveranno. Tanto sul gol dell'1-0 ne parlavamo con crescenze, un'incomprensione, però c'è un errore di tutta la squadra. Sul secondo gol invece, calcio d'angolo, bifulco tutto solo? Sul secondo gol è arrivato bifulco sul secondo, noi marchiamo la zona, dovevamo stare più attenti e ci ha fatto gol, ci ha un buccato lì. Sensazioni tue personali su Pellacani, diciamo, sul ritorno in campo? Per me dai bene, come già avevo approcciato con l'amichevole che avevamo fatto sul Mona, sono contento per il mio ritorno, ovviamente per niente, per il risultato, però sto bene. Pellacani ha anche un tuo giudizio, volevo sentire su quello di cui abbiamo parlato con tutti i tesserati che sono venuti qui con noi. Chiaro che tu ci sei stato poco, nel senso, dopo le prime partite, hai visto dalla tribuna, ma perché questo Pescara contro le squadre, con l'idea tattica, tipo Messina, tipo Taranto, soffre tantissimo e non riesce a controbattere all'aggressività della squadra avversale? Perché magari spesso, secondo me, vedendole anche da fuori, ci facciamo prendere troppo dalla fretta di voler fare gol subito, di voler andare troppo in avanti, troppo forte, spesso ci sbilanciamo e poi facciamo fatica a recuperare le partite. Tutto qua, è vero che soffriamo, come hai detto tu, contro Messina, Taranto all'andata, le squadre chiuse, facciamo veramente tanta, troppa fatica.